Musica Bentrovati da Salvatore e benvenuti a Risparmio e Famiglia, l'appuntamento settimanale con la finanza, i mercati, le start-up e le PMI innovative. Quali i fatti economici più importanti della settimana borsistica? Sicuramente c'è da mettere in evidenza le aste di metà e fine mese dei titoli sovrani italiani che hanno registrato un aumento nei rendimenti rispetto alle emissioni di gennaio. Inoltre poi questa settimana è stata caratterizzata anche dal collocamento da parte del MEF e del Tesoro del BTP e valore che ha raggiunto le cifre record. Partiamo subito con l'analisi dei mercati, noi ci rifacciamo all'analisi intermarket, ossia quando l'euro si rafforza nei confronti della moneta stelle strisce si ha un acquisto delle materie prime più basso, il che significa avere un'inflazione meno pregnante e quindi si ha poi un aumento delle azioni. Ma vediamo poi con i dati che cosa è accaduto in questa settimana. Partiamo subito con il cambio, cambio euro-dollaro, abbiamo 1,083, significa che con un euro è possibile acquistare 1,083 centesimi di punto. Il rialzo rispetto alla settimana ma la moneta di Eurolandia si è indebolita dall'inizio dell'anno del 2,15%. Quali gli effetti del cambio su quelle che sono alcune materie prime, alcune commodity che noi esaminiamo? Ovviamente i prodotti energetici sono molto importanti per quel che riguarda l'impatto sull'inflazione e in questa settimana il Brent, il petrolio quotato a Londra, barile su dollaro, ha avuto un incremento del 2,54% e dall'inizio dell'anno è quasi 8 punti percentuali il rialzo del prezzo del Brent, un barile circa 158 litri di petrolio. Per quel che riguarda poi l'altro elemento importante, un'altra materia prima, è un metallo prezioso che noi seguiamo per due motivi, un po' perché ci dà l'indicazione di come si comportano i metalli preziosi, quindi le commodity in generale, ma anche perché viene considerato un bene rifugio. Parlo del gold, l'oro, il metallo giallo, in settimane è in rialzo del 0,47% e poi dall'inizio dell'anno è rimasto abbastanza stabile per quel che riguarda le quotazioni. Terminata questa prima parte sulle materie prime, abbiamo visto che il cambio, l'euro si è indebolito e di conseguenza abbiamo comprato a caro prezzo anche quelle che sono le commodity, vediamo quali sono gli effetti sullo spread. Lo spread è un indicatore importante, vediamo prima di tutto come ci mostra la regia il mercato azionario, il Morgan Salk Capital Index e anche il Futsmib hanno a livello settimanale registrato una riduzione, ma dall'inizio dell'anno entrambi i valori sono positivi, sia il 73% per il Morgan Salk Capital Index e il Futsmib che ci dà l'indicazione delle 40 azioni più importanti del listino di piazza degli affari, più 7,03% da inizio anno. Un altro elemento importante che seguiamo nella nostra trasmissione è quello dello spread. Lo spread in questa settimana, ma anche dall'inizio dell'anno, non riflette secondo quelle che sono le indicazioni del manuale, ossia in genere quando lo spread in passato si è ridotto, ciò ha coinciso anche con una riduzione dei tassi di interesse, dei rendimenti nella fase di emissione delle aste dei titoli di Stato. Così come abbiamo detto in apertura, che cosa si è verificato in questo mese di febbraio? Che si è appena concluso. Lo spread si è ridotto, ma i rendimenti sono aumentati e anche per essere un po' più dettagliato, pur non avendo la grafica a nostra disposizione, il BOT semestrale su base annuale ha reso il 3,80%, tanto per fare un riferimento abbiamo poi il BTP valore che avrà un rendimento a scadenza del 3,77% ed è una durata semestrale, 6 anni, annuale, 6 anni, per cui che questo significa che i tassi a breve stanno aumentando. Ma lo spread, lo vediamo dalla grafica, 142,99% con un rendimento del BTP 1 marzo 2034 del 3,85%, ma dall'inizio dell'anno lo spread si è ridotto. Questa è un po' l'analisi dei mercati standard, poi la nostra trasmissione risparmio in famiglia ha un occhio, un focus particolare su quelli che sono gli elementi dell'ESG, ossia dell'ambiente, della sostenibilità in generale, quindi dell'ambiente, della governance e delle aziende e del sociale. Il MIB-ESG, ossia l'indicatore di quelle che sono le azioni del listino italiano, non solo principale, ma dell'intero listino che hanno una particolare attenzione alla sostenibilità, lo vediamo dalla grafica, in questa settimana ha perso meno 0,23 punti percentuali, ma dall'inizio dell'anno l'indicatore è positivo, più 5,29%. Dall'altra parte ci occupiamo dei BTP green, i BTP green sono quei titoli di Stato che hanno proprio una finalità sulla transizione ecologica, sull'ambiente, sulle rinnovabili, per cui parliamo anche di incentivazione dei trasporti, delle fonti non fossili, che questa settimana dalla grafica ci indicano che hanno avuto un ribasso in termini di rendimento e anche dall'inizio dell'anno le quotazioni sono in ribasso. Con l'indicazione degli indici sostenibili, sia per quel che riguarda il mercato azionario che per quel che riguarda gli acquisti in bond green, quindi BTP green, abbiamo terminata la fase dell'analisi dei mercati. Facendo un riepilogo, questa settimana il migliore investimento è stato sicuramente quello del BOT semestrale con un 3,80% di rendimento a livello annuale. Parliamo di start-up e PMI innovative. Le start-up sono importanti come anche le PMI innovative nel nostro paese per due ordini di ragione. La prima è che sono lo strumento con cui dal mondo accademico viene poi trasferita l'innovazione e la tecnologia nel mondo dell'economia reale e anche perché per l'investitore è un buon investimento. Quante sono le start-up nel nostro paese? Lo vediamo con la grafica, sono 13.157, prevalentemente ubicate nel nord del paese. Vediamo che la Lombardia è il primo polo nazionale con 3.694 start-up. Dalla grafica che ci viene mostrata, quella relativa alla Lombardia, è il primo polo nazionale. Segue poi la regione Lazio con 1.620 innovative, meno 8 rispetto alla precedente rilevazione settimanale, mentre la Campania è stabile come terzo polo nazionale con 1.464. Nella grafica poi in particolare abbiamo evidenziato, su cui poi faremo un focus nelle prossime slide, la Basilicata ne ha 117 e la Puglia 554. Andando avanti poi con la grafica, vediamo che dall'inizio dell'anno la variazione annuale delle start-up ha un andamento negativo. Sono state cancellate 237 start-up dall'inizio dell'anno, 39 nella regione Lazio, come anche 39 in Toscana e 32 in Sardegna. Solo questo per evidenziare quelle che sono le regioni con il maggior numero di cancellazioni. Per parlare di start-up regioni con numero di sostenibili innovative, positive, dobbiamo andare in Friuli Venezia Giulia 5, l'Abruzzo 4 e una in Basilicata che si è portata a 117. Poi per quel che riguarda, o questo per quel che riguarda la variazione dall'inizio dell'anno, ma anche a livello settimanale si registrano delle riduzioni. Abbiamo meno 30 e ce la mostra la grafica, in particolare il Veneto ne ha perso 23, la regione Lazio ne ha cancellate 8 e anche la Puglia è tra quelle con un maggior numero di start-up in meno perché ne ha 6 in meno. Per quel che riguarda invece i numeri positivi abbiamo l'Emilia Romagna, la Calabria e la Toscana con più una start-up e la Sardegna, il Piemonte e la Sicilia più 2. Questo per dare una panoramica specifica su quelle che sono le variazioni. Poi vediamo dove sono concentrate le start-up. Le start-up e le innovative sono concentrate, come ci mostra la regia, ringrazio Pino e la regia, prevalentemente nel nord del paese. Una start-up su due è nel nord, 52, per cento. Per quel che riguarda il sud, le start-up sono il 28% pari a 3.622 e le altre 2.681 sono le start-up del centro Italia. In Basilicata sono 117, 25 a Potenza e 92 a Matera. Mentre per quel che riguarda poi le innovative nella regione Puglia, che sono 548, sono ubicate nella provincia di Bari e Labat, quindi Barletta, Andrea Trani 288, nella provincia di Lecce 131, Brindisi 42, Taranto 48 e Foggia 39. Andando avanti poi con la grafica, parliamo di innovative, PMI innovative. Sono 2.813, 17 sono ubicate in Basilicata, 124 nella regione Puglia, anche qui a farla da padrone è la Lombardia, con 865 start-up. Segue poi la regione Lazio con 364. Bene, è tutto per questa puntata di risparmio e famiglia. Come sempre non perditi i nostri aggiornamenti quotidiani di economia e con te l'appuntamento è per la prossima settimana. Grazie a tutti.